Torniamo a occuparci del Consiglio Comunale di ieri sera, 26 febbraio, allorquanto il Consiglio Comunale è stato chiamato, abbiamo parlato abbondantemente nel segmento iniziale con i due consiglieri comunali, Montemagno e Polizzi, perché si è entrato nel vivo degli addempimenti che il Ministero degli Interni ha posto al Comune di Calteggerone perché la procedura di riequilibrio di bilancio del 2012-2016 fosse operativa. Benvenuto al Presidente del Consiglio Comunale, Massimo Alparone. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Presidente, io credo sia importante anche la Presidenza del Consiglio perché è la voce univoca in rappresentanza dell'organo democratico legittimamente rappresentato per la città di Calteggerone, senza quelle appartenenze più o meno di parte, ma il Presidente del Consiglio ovviamente deve rappresentare super partes per quanto ci si sforza, ma io posso assicurare che l'ingegnere Massimo Alparone si sforza parecchio per mantenere questo profilo di garanzia dell'Istituto Democratico del Consiglio Comunale. Dicevamo ieri sera un primo passaggio, fino al prossimo fine maggio, quando il termine ultimo sarà quello, per adempiere tutti i passaggi che il Ministero ha imposto al Comune di Calteggerone. Prego. Grazie direttore per l'invito e la possibilità che mi dà di intervenire in questa televisione. Ieri sera la città di Calteggerone ha fatto un ulteriore passo avanti verso la normalizzazione della gestione contabile e finanziaria del nostro ente. Dico la città di Calteggerone non a caso perché è un passo avanti che facciamo tutti insieme. Noi come Consiglio Comunale ieri sera abbiamo approvato i 5 bilanci preventivi 2012, 2013, 2014, 2015 e il 2016, così come richiesto dal Ministero entro la data del 28 febbraio e quindi con un lavoro fatto da parte della Giunta che ringrazio e degli uffici in tempi brevissimi che hanno portato in aula, prima in Commissione Consigliare e poi in aula, 5 bilanci preventivi. Quindi già uno sforzo enorme, sforzo enorme che è stato compiuto anche da parte dei revisori dei conti che ringrazio, che ieri sera hanno illustrato i loro pareri dati sui 5 bilanci con il Presidente Dottore Camarda che è intervenuto. Quindi un lavoro di squadra, ma è un lavoro di squadra che non deve fermarsi solo al Consiglio Comunale e al Comune, ma è un lavoro di squadra che deve essere fatto da tutta la città. In che senso? Per ristabilire il normale funzionamento del nostro Comune serve l'impegno di tutti i cittadini a contribuire, intendo a contribuire sia da un punto di vista del pagamento dei tributi dovuti, così come dalle suggerimenti, dalla partecipazione alla vita attiva della città. Dico questo perché prima del Consiglio Comunale ieri sera l'assessore Massimo Giaconia ha voluto un incontro con tutti i consiglieri comunali, con i capigruppo e con i componenti della prima commissione proprio per condividere una strategia per quanto riguarda il futuro del nostro ente, perché sappiamo bene che il Ministero ci ha approvato con un decreto la fuoriuscita al dissesto, ma i debiti rimangono, i debiti vanno pagati e le casse del Comune vanno riempite in qualche maniera. È un dato molto grave quello del pagamento del conguaglio della Tari del 2017 che ad oggi risulta circa del 38% il pagamento volontario dei cittadini, quindi un 62% dei cittadini che non ha pagato non è una percentuale normale, perché in questo 62% ci sarà una grande componente che può pagare e deve pagare, perché non possiamo pensare di risanare il nostro ente senza che il Comune possa incassare i tributi. Sappiamo che i finanziamenti da parte della Regione e della parte dello Stato sono sempre meno, quindi il nostro ente ha bisogno del pagamento dovuto dei tributi. È chiaro che c'è una porzione della città che non può pagare questi, perché proprio non riesce economicamente a pagarli ed è fisiologica e quindi non ci rivolgiamo a questi, ma ci rivolgiamo a coloro che hanno la capacità di pagare, ma che magari voglio essere buono, lo hanno dimenticato e che quindi invito, così come l'invito che abbiamo fatto ieri insieme all'assessore e ai consiglieri tutti, sia di opposizione che di maggioranza, ma ognuno faccia la sua parte per far sì che la città esca da questa situazione di crisi in cui ci troviamo. Ha detto bene lei, questi sono stati i primi passaggi per quello che il decreto ci chiede, che il Ministero ci chiede, infatti ora bisognerà approvare i bilanci consuntivi del quinquennio del quinquennio 2012-2016 e successivamente il 2017 sia il preventivo che il consuntivo e finalmente il 2018 il preventivo, cioè un bilancio dell'anno corrente, un bilancio quindi reale, non solamente una presa d'atto, un gioco di numeri per far equilibrare, si inizierà anche a fare politica per la nostra città. Quindi diciamo che questa è la prima fase per l'attuazione del decreto di accettazione dell'ipotesi di riequilibrio che il Ministero apporta, questo impegnerà ancora per i prossimi mesi fino a fine maggio l'intero Consiglio Comunale, qui ci vuole veramente il concerto, il concorso, un po' di tutti, noi la nostra parte credo che modestamente lo stiamo facendo cercando di sensibilizzare attraverso uno spot che poc'anzi è andato in onda, ma credo che tutta la città debba a tutti i livelli fare uno sforzo affinché si esca fuori da questo pantano, sia quella rappresentante istituzionale ma anche e di più, forse oggi più che mai è importante che i cittadini assolvano i propri doveri nei confronti del Comune, con un po' di sacrifici sì, probabilmente con un po' di sacrifici, però se non si fa così probabilmente non si esce fuori dall'angolo. Sì, assolutamente, perché sappiamo come ho già detto che i trasferimenti sono diminuiti quindi le casse vanno riempite anche con i tributi locali, non solo per pagare i dipendenti comunali che è una quota del nostro bilancio, ma vanno pagate tutte le ditte che lavorano e operano per il Comune o per i servizi del Comune come la raccolta dei rifiuti, la gestione di illuminazione, la manutenzione, il rifacimento delle strade, sono una serie di servizi che non possono essere fatti se le casse non vengono riempite in qualche maniera, quindi è un invito di unione nella città, di tutte le forze politiche e ieri sera è stata infatti una bella serata di Consiglio Comunale dove sono stati dei toni assolutamente istituzionali sia dalla maggioranza che dall'opposizione e questo fa ben sperare per il futuro della nostra città. Sono convinto che questa atmosfera rappresentata dal Presidente del Consiglio per lo svolgimento del Consiglio Comunale di ieri sera sia la serenità che questa città sta provando a ritornare ad avere, non soltanto dal punto di vista gestionale ed è palpabile per certi versi, ma anche la tranquillità dovuta anche a quest'atto portato a termine dall'assessore Massimo Giaconia, personalità professionista messa a disposizione tutta la sua capacità professionale per tirare fuori Caltagirone da questo pantano dove si era infoiata dal 2012 in poi. Credo che questo sia un bel sentire, una bella sensazione che la città voglia assolutissimamente, unanimemente, uniformemente uscire fuori da questo buio, da questo cono d'ombra che ci ha visti relegati. Io credo ancora per qualche anno dovremo fare grandi sacrifici. Sacrifici saranno per tanti anni, però piano piano i segni nella città si iniziano a vedere di un cambiamento e quindi più andremo avanti e migliori saranno le condizioni sia del nostro bilancio e quindi per caduta di tutti i comparti della città. D'accordissimo, va bene Presidente, chiudiamo qua stasera, avremo occasione ancora di rivederci perché seguiremo tutti questi step fino al compimento di questo e poi del bilancio di previsione. L'ultimo bilancio previsionale lo abbiamo avuto nel 2011, quindi sarà una bella novità poter programmare politicamente tutto quello che la città a divenire dovrà realizzare. Grazie al Presidente e l'Ingegnere Massimo Alparone, alla prossima, grazie, buona serata. Pausa pubblicitaria e continuiamo ancora con un altro segmento. A dopo. Pausa pubblicitaria e continuiamo ancora con un altro segmento. Grazie a tutti.